alla fine vince il napoli che non si dica poi che a fortuna il napoli quest'anno no non si può dire vabbè comunque fortuna non fortuna la juve certo fa poco e niente per vincere tanto per cambiare ma questa è una squadra che non ha un minimo di orgoglio non ha attributi perché dopo la partita dell'andata e i cinque e i cinque babà annessi questa squadra stasera doveva scendere in campo col coltello tra i denti e non è un luogo comune doveva fare di tutto per vincere questa partita doveva vincere queste semmai perdere tutte le altre da qui alla fine del campionato ma questa doveva vincerla e doveva vincerla anche bene in maniera convincente e meritata e invece non l'ha fatto ripeto perché non hanno un bricello di dignità di orgoglio di attributi e basta allegri pass ma che ma che ma intanto che formazione hai messo in campo e quindi già che messaggio hai dato ai tuoi stessi giocatori anche al pubblico si era fatto tanto per tenere aperta la curva dello stadium questa sera e alla fine è stata aperta stadio tutto esaurito per vedere l'ennesimo schifo o sono tre sconfitte di fila sono tre sconfitte di fila in campionato poi che non ci si attacchi alla penalizzazione che tra l'altro in questo momento è stata pure tolta ma sapete cosa vi dico sapete cosa vi dico che non c'è bisogno nel nuovo processo che verrà fatto e poi in quello relativo al filone stipendi di penalizzare la juve perché ci pensa già allegri a penalizzare la juve ripeto tre sconfitte di fila in campionato zero punti nelle ultime tre sarebbero stati nove quindi più o meno siamo già siamo già almeno 15 ci pensa ci pensa allegri ci pensa allegri che becca due stasera becca due miretti becca tre ma la colpa non è neanche tutta sua ma di chi lo fa giocare al posto di fagioli che infatti entra e prende sei e mezzo sei e mezzo anche milic perché pur non segnando si fa un mazzo così e al contrario di qualcun altro uno a caso dusan blaovic sa stoppare il pallone sa difenderlo sa fare salire la squadra insomma sa fare tutto a volte pensate nelle poche occasioni che gli capitano sa pure calciare in porta quattro e mezzo a un imbarazzante kostic questa sera sei in mezzo a locatelli che in fase di impostazione lascia sempre a desiderare ma quantomeno ci mette sacrificio ci mette volontà nei recuperi nelle chiusure e se la cava anche con un paio di giocate da applausi poi male malissimo scesne ma ragazzi ma di cosa stiamo parlando ma questo qua è un citofono questo è un citofono ogni tanto fa qualche buona parata poi al momento più importante avete visto che gol ha preso ma un portiere della juventus può prendere un gol del genere facendosi passare il pallone sotto le gambe manco fosse il tiro della tigra di mark landes quello di giacomino raspadori che già fa ridere fa ridere a guardarlo giacomino raspadori sembra giacomino di aldo giovanni giacomo ma vabbè poi direi sei in mezzo per danilo che da solo tiene sulla baracca sei in mezzo anche per gatti cinque arrugani che non aveva fatto neanche male ma poi spiegabilmente si scorda raspadori da solo a centro aria e poi quadrato 5 perché perché basta perché basta davvero basta e miretti ve l'ho detto tre e poi non lo so gli altri non me li ricordo neanche non mi interessa più mi sono stufato basta mi sono stufato grazie 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 a tutti